E allora amici di Non Solo Mare, eccoci nella fantastica cornice del circolo nautico Posillipo alle nostre spalle il 996 col quale Fabio Bertolacci, campione del mondo di offshore 2010 ma non è solo quello, è una lunga storia legata al mondo del racing col quale noi abbiamo vissuto con te, tante emozioni però oggi ti sei messo anche nel mondo dei gommoni perché prima c'era tutta la tua storia legata alla vera passione del gommone perché tu mi raccontavi addirittura che con un piccolo quattro metri sei nato fino a Palma di Mallorca partendo da Roma Beh diciamo che non era un piccolo quattro metri ma erano una serie di persone con una serie di equipaggi in tutto mi sembra che erano una decina con un quattro metri e settanta che era il gommone più piccolo fino al sette metri e mezzo che era il gommone più grande E da lì è iniziata la tua passione? No, no, la mia passione è nata con mio padre che ti dicevo appunto prima quando eravamo nel golfo lì quando stavamo per entrare nel golfo di Napoli che facevamo i ride di Natale io non ero un appassionato di gommoni, anzi era una disperazione di mio padre che diceva ma come i due amici vogliono venire con me e tu non vuoi venire e invece noi col tempo poi mi sono appassionato, è nato tutto con il gommoni, con i viaggi d'avventura in Roma Tunisi, in Roma Isola e Baleari e tanti altri con dei piccoli gommoni perché era la storia del gommone con la chiglia pneumatica oggi andiamo con gommoni di 10 metri in vetro resina quindi voglio dire è un altro andare per mare rispetto a quella che mi ha tramandato mio padre che poi io naturalmente ho vissuto un'evoluzione bellissima perché oggi il gommone è un mezzo come l'abbiamo potuto vivere noi oggi 57-58 noti e hai attivito circa 50 di media 50 di media, ci siamo fermati ogni tanto perché ogni tanto tu ami fumare quindi ci siamo fermati per fumare qualche telefonata però insomma due ore di navigazione anche una controllata agli strumenti perché comunque abbiamo visto che navigando sì, navigando su una barca che non conosciamo abbiamo dovuto sotto controllo del carburante è tutto quello che riguarda la navigazione strumentale insomma non è che abbiamo fatto una cosa difficilissima perché insomma venire da Roma a Napoli è una passeggiata adesso degli amici di Napoli appunto era un modo per far capire quanto è bello navigare anche fuori stagione adesso siamo già quasi a fine ottobre siamo già a metà ottobre avanzata è una giornata fantastica il mare devo dire ci ha accompagnato in maniera piacevole anche se poi c'è stato quel tratto da San Felice Circeo arrivare qua che c'è stato quel momento insomma di un po' di mare l'abbiamo preso però ti fa male la schiena? no, 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 però ho visto che insomma mi hai detto che quello era tu mi hai detto pensa a noi quando correvamo in offshore con questo mare a 100 e bassa miglia sull'acqua quando volevamo con questo a 50 nodi pensa quando vogliamo con 100 e bassa miglia quanta strada si fa per aria noi in acqua sì, è vero, lì navigavamo, qui potevamo togliere, lì non si toglie mai però ritorniamo a nostra navigazione, a questa bellissima esperienza che mi ha fatto rivivere anzi ti ringrazio per avermi invitato a portare giù questo gommone è un gommone 996, è un gommone veramente eccezionale sotto le sue doti marine un'ottima carena e come ti dicevo prima per quanto riguarda questa nuova motorizzazione questa coppia di 350 brillante ma decisamente paurosa perché lo immagini in mano a un principiante, un neofita può diventare un oggetto un po' impegnativo da guidare non impossibile ma molto impegnativo sono convinto che si potrebbe fare una navigazione più tranquilla nonostante si cali un pochettino nella motorizzazione io ti ho chiamato apposta, parlando con l'analisi ho detto dopo che il 996 con due da 200 cavalli ha attraversato l'Oceano Atlantico con Sergio Davide che è andato a una media di 18 nodi e comunque quel gommone faceva già 40 nodi tirando la manetta con due da 200 ho detto chiamiamo Fabio Bertolacci e proviamo invece il top le due da 350 Suzuki che danno sicuramente più soddisfazione per le prestazioni però come dici tu dopo i 50 nodi bisogna iniziare a avere un po' di esperienza anche per quello che è proprio l'andatura veloce sul mare che viene anche dal mondo delle corse diciamo che l'andare per mare a 50 nodi per Diporto non è parte della mia concezione io vado per mare, sono sempre andato per mare l'esasperazione l'ho voluta poi tramutare in corsa e in competizione l'andare per mare oggi sono sincero ci avrei voluto mettere 8 ore per arrivare giù perché avremmo potuto godere di questi magnifici panorami che ci ha dato questa splendida giornata di quasi fine ottobre cioè qui siamo noi con la felpetta io con la felpetta perché ancora non mi sono spogliato ma sono appena arrivati e c'era gente qui alle mie spalle che fa il bagno o stanno in costume a prendere il sole io confermo perché a un certo punto ha tirato giù il gas si è messo a 20, 22, 25 nodi e se la voleva godere noi avevamo detto che ci mettevamo due ore e lui ha detto ma guarda quanto è piacevole navigare alla velocità giusta perché quella è la velocità giusta con la quale ci si può godere anche gli amici a bordo certo certo questo ma ritorniamo a lasciare perdere l'aspetto della prestazione corsaiola che naturalmente già l'abbiamo detto è eccezionale parliamo un pochettino di questo mezzo per quanto riguarda la sua navigazione è un mezzo molto comodo confortevole dal punto di vista della navigazione quindi ha un'ottima carena abbiamo trovato anche del mare tu l'hai detto prima anche fastidioso un mare di poppa un po' di vento ha cambiato completamente da un golfo a un altro e noi ci siamo adeguati anche nelle velocità l'abbiamo ridotto leggermente se ti interrompo ma quando dici un'ottima carena spieghiamolo perché molte persone poi da Fabio Bertolasci lo vogliono capire cosa significa valutare una carena in mare perché tu su quali elementi dici se una carena è buona o non è buona che cosa deve dare una carena a chi poi conduce l'imbarcazione quali sono le sensazioni che ti trasmettono positive o negative allora diciamo che una carena a volte è frutto di un equilibrio se cerchi la prestazione non può essere un'ottima carena se per far di porto questo è il giusto equilibrio per fare di porto e avere anche la prestazione velocistica mi spiego meglio se tu cerchi una carena che abbia la facilità nell'andare in planata bassi consumi è una carena un pochettino meno AV meno esasperata dal punto di vista della prestazione con l'impatto sull'onda questo abbiamo visto che siccome abbiamo incontrato due tipi di mare diverso che si comporta in maniera assai brillante se viaggi a pochi nodi quindi vuol dire che tu hai una certa portanza è il giusto equilibrio è un compromesso ideale per il riportista è il giusto compromesso di una carena sportiva che non è l'over the top se tu la devi poi trasformare se adesso togliessimo tutto e diventa un comune da corso ovviamente sarebbe la sua porca figura tra virgolette magari potrebbe avere qualche problema antiuso e contro determinanti condizioni di mare cioè una carena non può essere ottima per tutti i mari diciamo che i giusti equilibri sono quelli che servono per poter fare poi il diporto questo comune non nasce con velle da corsaiore l'abbiamo fatto diventare noi con due motorizzazioni da paura però è finita a un soggetto che tra l'altro tutto farà forché le corse farà il diporto quindi voglio dire è un ottimo comune sotto quei punti di vista ha naturalmente come tutti i comuni alla loro prima uscita dei piccoli accorgimenti che poi tra l'altro quando sono così grandi vengono disegnati appunto come parlavamo prima con l'analisa per il proprietario noi siamo leggermente più alti del proprietario quindi quella ruota di governo posizionata un po' troppo bassa per me è ottima per il neo acquirente quindi voglio dire gli effetti magari possono sembrare difetti ma in realtà non sono però certo per esempio ti dico che viaggiando a 57 di quanto abbiamo viaggiato noi una bella maniglia anche per il pilota non è male perché con una mano tieni la ruota di governo poi ogni tanto hai la necessità di staccarti e attaccarti a una maniglia e non sempre la trovi perché quella che c'è non ha una vera maniglia d'appiglio ma bensì solo un passaggio da poppa a prua dello scafo quindi secondo me è un'impostazione motorizzato sportivo ma l'impostazione si vede ancora da di porta quindi andrebbe forse visto se vuoi prestazione bisogna avere come ho detto veramente sono peccati veniali che veramente il cantiere può su esigenze del cliente modificare la console di guida nel senso mettere la ruota di governo più su più giù come l'abbiamo visto noi come lo stesso strumento noi dicevamo è piccolo certo a 57 noti stai guardando da una parte all'altra quello è lo strumento un po' piccolo però se tu vai da di porta basta che lo vedi sta là portando in mano invece noi non potremmo staccare le mani dal timone tu stavi attaccato alla maniglia quello strumento per quella tipo di attività è un po' troppo piccolo non ha una grande visibilità e allora io direi ringraziamo Fabio Bertolacci per aver fatto insieme a noi questo trasferimento voluto per intanto trasmettere la passione di andare per il mare perché questa edizione di navigare serve soprattutto per venire qua e provare imbarcazioni con le quali bisogna poi lasciare gli ormeggi e vivere il mare Fabio Bertolacci l'ha fatto in tutte le varie sfumature è partito con i piccoli gommoni è passato a darci grandi emozioni con l'offshore vincendo anche un titolo mondiale che tutt'oggi ricordo è l'ultimo titolo che è venuto in Italia nell'offshore 3000 nessuno poi l'ha riportato in Italia anche se Diego Testa ci aveva provato ma poi non ce l'ha fatta quindi dal 2010 noi aspettiamo che qualcuno prenda il posto di Fabio Bertolacci ci riporta in Italia un mondiale che a quell'epoca erano 25 imbarcazioni se non sbaglio da tante nazioni quindi è stata una bella esperienza per te ci hai regalato una grande emozione a noi ma anche per te insomma penso sia stata una bella gioia sì sì grande emozione rimane ancora sì mi rimangono sempre come ti ho detto rimane ancora nel cuore tanto è vero che tu sai che a Roma parte proprio in questi giorni un programma legato ai bambini perché se ho smesso di correre io vorrevo tramandare visto che non ci sono riuscito con mio figlio la passione per lo sport per lo sport motonautico e per gli sport motoristici nello specifico e chissà che questi bambini dalla sport della motonautica poi non diventino anche appassionati di mezzi da diporto perché spesso succede anche questo tu sei partito al contrario dal diporto poi ti sei appassionato di motonautica però può succedere anche il contrario ci si parte dalle corse poi magari si vuole anche una barca per andare in giro a fare il bagno un bambino si avvicina non per sport agonistico ma un bambino si avvicina con il nostro progetto con la cultura con un po' di acquisizione di quelle culture marinerische non ci dobbiamo dimenticare che l'Italia è circondata dal mare però il barca è solo per ricchi e invece non deve essere questa la filosofia di chi va per mare grazie Fabio ciao grazie a voi